Gli extracomunitari sono arrivati al Molo Roncilio a bordo della nave Bourbon Argos. Si tratta di 570 uomini, 205 donne e 22 bambini soccorsi a largo delle coste libiche. I migranti, appartenenti a vereicate etnie, viaggiavano a bordo di barconi che si sono trovati in difficoltà ad attenderle sulla banchina. La solita task force, preposta all'accoglienza, una prima assistenza sanitaria, uomini, donne e bambini, l'hanno ricevuta sulle tende da campo allestite dall'Associazione di Volontariato e dalla Croce Rossa sul Molo presidiato da Carabinieri Polizie e Guardia di Finanza. A bordo, 83 presunti casi di scabbia. Ultimate le formalità di rito, i migranti sono stati accompagnati a bordo di pullman ascoltati dalle forze dell'ordine all'ottospotto di Milo dove saranno avviate le procedure per la loro identificazione. E sul fenomeno degli sbarchi abbiamo ascoltato l'onorevole Alessandro Pagano in occasione della sua visita a Trapani. Noi diciamo a grandi lettere che coloro che sono rifugiati sono nostri fratelli. Noi abbiamo il bisogno, l'esigenza di andare a aiutare. Dobbiamo prendere gli aerei e andare là a aiutare i nostri fratelli di qualsiasi religione, ma sono soprattutto cristiani, che sono perseguitati, che ricevono danni enormi dalla discriminazione di tipo religioso. Però poi dobbiamo tenere conto che in Italia soltanto il 4% di quelli che arrivano hanno queste caratteristiche. Dobbiamo tenere conto, e questo è un aspetto importante, che i regolari italiani sono immigrati, immigrati, regolari italiani sono 5 milioni e questi sono una grande risorsa per il nostro Paese. Sono un'opportunità incredibile, pagano le tasse, stanno bene, si sono inseriti, si sono integrati, hanno una capacità di dialogo enorme, indipendentemente dal spirito religioso che li appartiene. Noi dobbiamo fare un distinco, dobbiamo essere corretti con noi stessi, con la nostra gente, rispetto invece a chi viene qui perché è passato un messaggio che è quello andate in Italia perché tutto è gratis. E queste persone costano 4 miliardi di euro al nostro budget. E non stiamo parlando di gente povera, perché sono facili anche da identificare, ragazzoni pieni di vita che vengono senza le loro famiglie, pochissime donne. È evidente che a questo punto c'è anche un problema che deve essere spiegato, visto che un viaggio di questo genere costa dai 10 ai 14 mila euro, in contesti dove si vive a 2 euro al giorno. Ci sono troppi fenomeni che devono essere spiegati. E soprattutto non è possibile questa sostituzione di popoli. Il popolo italiano viene scoraggiato a produrre, c'è un fenomeno di deflazione, mancano denari, non ci sono soldi, le banche non erogano più denaro alle nostre imprese, non c'è sostegno alle imprese, i nostri ragazzi se ne vanno tutti. Eppure, guarda caso, a fronte di 100-120 mila persone che ogni anno se ne vanno fuori dall'Italia, ne arrivano tre volte di più, questi sono i numeri dell'ultimo anno.